Allora intanto, senza svelare troppo, chiaramente di che parla Formule Mortali? Allora, Formule Mortali è un noir, dunque come tutti i noir c'è un'indagine, c'è la scoperta di questo cadavere a Villa Sciarra, dunque questo storico parco a Monteverde, che è un quartiere del centro di Roma, e vengono chiamati sul posto i cinque di Monteverde, che sono i cinque protagonisti di questi romanzi. Tu prima di questo hai già scritto diversi libri? Sì, ho scritto come definire a pesce cani, che ha vinto il Tempio Scerbanenco nel 2021 dei Lettori, ho scritto poi l'anno successivo nel Nero degli Abissi, e appunto quest'anno arrivo con Formule Mortali, che è un prequel dei primi due. E hai già in mente altri progetti di questo tipo? Sì, sì, c'è l'ottica di una serialità, dunque sicuramente l'anno prossimo usciremo con un'altra indagine dei cinque di Monteverde, anche tra due anni, e poi vediamo.